Io pensavo fossero più grandi, c'è un monovano per ogni appartamento. Qua ragazzi, se ci uccidono, ci possono mettere qua dentro, non ci troveranno nemmeno nemmeno. Non c'è problema se questa struttura sta completamente a buca. Mamma mia di questa fortetta bestiale, eh? Un po' di musica e balliamo. Su! Documenti? Bello! Guarda quanti, guarda, guarda, guarda! Un solo Vincenzo!